saluti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono dani e oggi siamo qui in compagnia di max farmer buonasera a tutti oggi siamo qua su minecraft nella nostra serie vanilla e vedo una pecora lì sotto nell'acqua qua te l'ho d'occhiata pure io quindi adesso direi iniziamo ad uccidere la pecora e poi vi spiego brevemente cosa è successo in questo periodo in questo episodio allora come vedete la casa era lì sopra ci vogliamo trasferire io max però io non ho cibo max quindi sono lento sto qui pure io o la mangiamo cruda io sono lento chi ha pane una chi ha pane una grazie la mangiamo cruda si si mangiamo la cruda solo per un attimo per correre ok io direi che adesso ci trasferiamo troviamo un bel posticino dove metterci magari anche carino ah quella zucca lì potevamo prenderla e poi ci costruiamo una casetta in legno direi facciamo iniziamo proprio una casetta casetta ok qua direi io ora anche una casettina aspetta qua qua cos'era mamma mia non l'ho vi anche visto che spavento bene il ligno ce l'abbiamo per caso c'hai qualcosa di minus atual non lì potevamo ho capito il ligno che c' altro no perché c c'è la terra scusa terra sì ce n'è un po metterlo lì spero non è comunque ho capito rimane io ho compito tutto il ligno che c'avevamo nina cesta io non è finita la terra però aio oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioido te ce c'è qua te e crepooo ok insomma allora io direi che facciamo una casa con una struttura di betulla per ora che è quello che vogliamo di più no no prende non mi piace più quello de guercio dai fallo per me facciamo tipo a strati, il contorno No, aspetta un attimo, hai muto in idea No, no, vabbè C'è il pavimento interno in betulla E allora il resto della struttura È il pavimento, sì, bravo È tutto la resta della struttura in quello di quercia Aspetta che lo prendo io Quello di quercia No, perché? Ok, non ho la data Ok Ok Ok, non ho pure morire io Ok, allora quercia ce l'ho Allora, direi prendiamo questo, 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 questo E la facciamo di quanto perimetro? Cioè, quanto grande la facciamo? Un per quante? Non lo so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 8? 8 per 8, dai, va bene Ciao Bene ragazzi, siamo arrivati qua A questo punto della costruzione della casa E c'è anche Domix con noi oggi Ora Ciao 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 E come vedete abbiamo costruito le pareti E le parti del scherzo della casa E io ho fatto una breve arredamento Che poi, ovviamente, sistemeremo più avanti E intanto, ecco È un po' provvisorio Vi taglio un attimo Vi fateci a vedere un attimo solo qui E vi mostrerò subito dopo quando abbiamo finito la casa Ci vediamo Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale di MaxFarmer anche, che metto il link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale. E ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto, ci vediamo presto, ciao a tutti.